Si avvicina a grandi passi il giorno del debutto ufficiale del nuovo Catani al Valentino Mazzola di San Cataldo. A Caltanissetta si è tenuta una riunione in questura su un evento che richiamerà un massiccio numero di tifosi etnei e non solo. Richieste di biglietti sono giunte anche da altre zone della Sicilia. La capienza dello stadio sancataldese è di poco superiore ai 2000 posti, 2200 per la precisione. Complessivamente ne saranno destinati 1575 ai tifosi locali, 1275 in gradinata e 300 in curva. Per i tifosi catanesi disponibili 625 posti, 400 in tribuna coperta e 225 in gradinata. Un numero nettamente al di sotto delle aspettative dei sostenitori rossazzurri che sui social, non solo sulla pagina Facebook della San Cataldese, hanno manifestato malumore e disappunto per il costo del biglietto annunciato dalla San Cataldese. 15 euro in tutti i settori dello stadio, un prezzo ritenuto alto dagli stessi tifosi catanesi per una partita del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Intanto le due squadre proseguono la preparazione per arrivare al modo migliore alla partita, sulla quale saranno rivolte le attenzioni di tutta la Sicilia calcistica e anche oltre. Il Catania punta senza mezzi termini all'immediato salto di categoria e da qui alla fine della stagione Coppa Italia compresa giocherà per vincerle tutte. Per questo la dirigenza presieduta da Ross Pelligra ha allestito un organico di primordine che domenica sarà chiamato alla prima prova contro una San Cataldese che certamente non starà a guardare. Anche a San Cataldo infatti c'è voglia di far bene e soprattutto di dare il massimo in un'occasione definita storica da più parti.